Siamo notati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa, fratelli e sorelle carissimi, celebra la sorennità della Pentecoste. E con questo giorno, appunto il giorno di Pentecoste, il cui evento ci è presentato dall'odierna liturgia nella prima lettura che abbiamo ascoltato, proprio l'evento storico di quando si è compiuta la Pentecoste, si compie definitivamente il passaggio di testimone di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana dalla missione terrena di Cristo a quella della sua Chiesa. Che altro non è la missione della Chiesa e non deve essere altro che il prolungamento storico di quella del suo capo, maestro e signore. La Chiesa continua a fare nella storia ciò che Gesù ha fatto durante la sua missione terrena. Dieci giorni sono trascorsi dall'ultimo atto della vita terrena di Gesù, l'ascensione che abbiamo celebrato domenica scorsa, e il primo atto pubblico ufficiale della Chiesa, investita e abilitata dallo Spirito Santo al compimento della sua missione. Missione che alla Chiesa è stata consegnata da Gesù in persona di annunciare il suo Vangelo e portare la sua salvezza fino agli estremi confini della terra. Ricordiamo sempre che la Chiesa esiste per questo, anzitutto, annunciare il Vangelo e portare la salvezza acquistata da Gesù fino ai confini della terra. Come si è comunicato lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, la prima lettura? Anzitutto come fuoco, preceduto, dice il testo, da un fragore, si potrebbe tradurre il termine anche rombo, quindi proviamo a immaginarlo, e da un vento impetuoso. Il fragore rimanda al rombo della voce di Dio, che fa rumoreggiare le acque del cielo. C'è un testo del profeta Geremia, capitolo 51, che usa lo stesso identico termine greco usato in questo testo. Mentre il vento impetuoso allude chiaramente, il vento, all'accostamento tra lo Spirito Santo e il vento che Gesù formulò nel discorso con Nicodemo, ricordate? Dice, il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va, così è di chiunque rinasce da acqua e da Spirito. Quindi quando lo Spirito scende, quindi fragore, rombo e vento, cosa fa? Provoca un santo scuotimento interiore e spazza via il vento, tutto ciò che in ogni modo o forma ci impedisce di essere o rimanere in un'autentica e santa relazione con l'Altissimo. A queste due operazioni, che potremmo dire un po' propedeutiche, prima che arriva il fuoco si sente il fragore e si sente il vento, segue la discesa del fuoco. E che significa il fuoco? Il fuoco significa la luce della verità che lo Spirito infonde. Sappiamo che il fuoco un tempo era l'unica sorgente di luce, la notte sorgentevano le torce, quindi la luce, la luce che lo Spirito infonde. Ma il fuoco, lo diciamo anche noi, il fuoco è anche simbolo dell'amore, è proprio l'immagine simbolica, quando uno arde d'amore. Quindi la forza è il fuoco dell'amore che lo Spirito infonde e trasmette, ma il fuoco sappiamo anche che si usa per purificare, no? Se abbiamo l'oro grezzo, deve essere bello che è fuso e purificato col fuoco ad alte temperature. Quindi il fuoco significa l'incessante e la continua opera di purificazione, raffinazione che lo Spirito Santo opera nelle nostre anime. Certamente già santificate dalla sua presenza e azione, noi siamo battezzati, ma sempre bisognose di purificazione. Nessuno di noi è così santo da non avere delle cose di cui essere purificato. Spero che tutti ne siamo consapevoli, insomma, no? E ciò fino a quando ci troveremo in cammino e non ancora giunti alla patria eterna. Abbiamo infine sentito dal testo della prima lettura che, oltre a queste cose, lo Spirito Santo effuse un primo carisma straordinario, necessario per sigillare e confermare il primo annunzio del Vangelo. Cioè, gli apostoli parlavano, chiaramente parlavano in aramaico perché non erano così colti e istruiti salvo qualcuno, annunciando le grandi opere di Dio, però chi li ascoltava li capiva nel proprio idioma nativo. Quindi sarebbe come se uno oggi parla in italiano e davanti c'è un inglese, un tedesco, un francese, uno spagnolo, io parlo in italiano e quello sente in francese, tedesco, spagnolo, eccetera, eccetera. Questo è quello che accade quel giorno. Questo segno straordinario, chiaramente, voleva certamente prefigurare in nuce il fatto che il Vangelo sarebbe stato annunziato e compreso in tutte le lingue del mondo, cosa che poi, come sappiamo, si è concretamente verificata nel corso della storia. La seconda lettura ci ricorda la molteplice azione santificante, ordinaria e anche straordinaria dello Spirito Santo che si esplica, c'è San Paolo, nella pluralità e molteplicità di carismi, ministeri e attività di cui si alimenta la vita della Chiesa. Attenzione che da vivere e da praticarsi sempre nella piena unità e comunione. Attenzione che la unità e la comunione è sempre il sigillo di autenticazione di qualunque carisma, ministero e attività che voglia dirsi ecclesiale. Questo anche nelle nostre piccolissime comunità parrocchiali. Io ho sempre cercato di trasmettere, da quando sto qui, e speriamo anche di testimoniare con la mia azione, però questo aspetta al Signore e anche a voi giudicarlo, l'importanza che nelle cose, la cosa più importante che ci sia, al di là di quello che facciamo, è come lo facciamo. Che ci sia sempre l'amore e l'unità, che sono proprio i sigilli della presenza dello Spirito Santo. Perché quando queste non ci sono, e ci sono contese, liti e discordi dello Spirito Santo, non c'è mai. Non c'è neanche se uno stesse facendo la cosa più importante e più santa del mondo. Di questo non dobbiamo mai averne nessun dubbio. Quindi tale unità è espressa dal mistero della Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo, dice sempre San Paolo. Voi capite che un corpo è una realtà unitaria, che dipende dalla testa, ma dove tutto concorre dentro una sostanziale unità. Dentro questa unità, la particolarità e la singolarità di ogni organo e membro, in altri testi San Paolo fa un approfondimento di questo, converge però sempre verso l'unità del corpo. La mano è mano, ma la mano fa quello che dico io, e concorre al bene del corpo. Quando io la mattina mi lavo, la mano sta facendo la mano, ma concorre alla pulizia della mia faccia o altre cose. Quindi è sempre tutto finalizzato all'unità. Attenzione che molto ci sarebbe da meditare, noi chiaramente non possiamo farlo adesso, su queste parole dell'Apostolo. Quindi unità e molteplicità, unite però, composte insieme. Perché a volte, nella Chiesa, succede che si dipende verso gli opposti, di un pluralismo autoreferenziale, cioè ognuno fa come gli pare, se lo si prende un pochettino la briga di camminare secondo binari propri. Oppure c'è l'altro eccesso che è una sorta di uniformità ipertrofica, d'accordo, eccessiva, che diventa uniformismo e che mortifica la ricchezza della diversità. Quindi sono due elementi da tenere sempre insieme. Infine nel Vangelo abbiamo riletto, i più attenti e più, diciamo così, veramente zelanti, se ne saranno accorti. Ma questo è il Vangelo che la liturgia della Chiesa ci aveva proposto nella Domenica in Albis. Quindi, ossia quella sorta di prima comunicazione dello Spirito di Gesù Risorto, trasmessa agli undici da Gesù in persona la sera stessa di Pasqua, con il potere di rimettere i peccati. Che appunto può essere letto questo come il primo atto di questa trasmissione del testimone, di cui abbiamo parlato all'inizio di queste riflessioni, che si sarebbe poi compiuta definitivamente il giorno di Pentecoste. Quella sera Gesù, alitando sui dodici, sugli undici, meglio, conferì loro l'effetto principale dell'opera della retenzione da lui appena compiuta. Cioè la remissione dei peccati e il potere e il dovere degli apostoli di esercitare tale potestà in suo nome. Quando ci andiamo a confessare, se facciamo attenzione alla formula dell'assoluzione, vi ricordate cosa dice il sacerdote, no? Dio Padre di misericordia che ha riconciliato a te il mondo nella morte e l'esercitazione del suo figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Quindi la remissione dei peccati è l'opera fondamentale dello Spirito Santo attraverso il sacramento del battesimo e della penitenza. Con la Pentecoste, quindi con oggi, ciò che Gesù iniziò la sera di Pasqua, lo completa. Quindi la Chiesa è completamente dotata di tutto ciò che è necessario per compiere la missione apostolica. Può uscire allo scoperto e può ricominciare da dove aveva finito Gesù e continuare, la Chiesa continuerà fino alla fine del mondo. Attraverso tutti i tentativi dell'inferno di combinare guai e di distruggerla, questo è il sogno mostruosamente proibito del diavolo, distruggere la Chiesa. E ci prova incessantemente da duemila anni, i danni li fa, ma distruggere non ce la farà, non ce la può fare. Perché il Signore ha promesso che le porte degli inferi non prevarranno. Comunque, adesso tocca a noi. Gesù ha fatto quello che doveva, adesso tocca a noi, discepoli di Gesù e battezzati. Lo Spirito ci ha dato e ci dà in continuazione, purché li attengiamo, tutti i mezzi necessari per compiere la nostra missione nei confronti del mondo. Sta a noi, chiaramente, accoglierli, valorizzarli e usarli in modo retto e santo. Quanto più faremo questo, e tanto più la Chiesa brillerà della luce del suo Signore, porterà a egregio compimento la sua missione di essere madre e maestra dell'umanità intera, redenta dal sangue del suo Signore. Sappiamo che abbiamo in Maria Santissima domani, mi ricordo che sarà celebrata la memoria di Maria, madre del Signore, non madre del Signore, madre della Chiesa, proprio il giorno dopo la Pentecoste. Perché? Ecco, perché la missione incipiente della Chiesa si svolge sotto lo sguardo e con l'aiuto di colei che oltre che madre di Cristo è madre della Chiesa. E nell'ordine della grazia ci ottiene e ci procura tutto ciò che è necessario, non solo per vivere da degni figli di Dio, ma anche per compiere la missione che il Signore ci ha affidato. Siano lodati Gesù e Maria. Bene.